Test HX20V Vedete già con il grand'angolo che ha C'è bisogno di fare il panning Perché c'è già tutto il panorama Faccio uno zoom Questo è il massimo zoom disponibile Veramente elevato devo dire Arriviamo un po' di zoom Così ancora più stabile E anche credo di più qualità Torniamo in grand'angolo Un'altra scena Ora anche qua facciamo uno zoom Un'altra scena Facciamo il zoom alle barche Vedete che praticamente sono a pieno zoom Ecco quasi pieno Ora è pieno zoom Un attimo che ecco Ed è abbastanza stabile la ripresa Devo dire Per essere 500anti di più Qua siamo a 700 passa millimetri Ti si lascia un po' Molto più stabile E anche credo di più qualità Ora è pieno zoom E anche se facciamo uno E anche se faccio un po' E anche se faccio un po' E anche se faccio un po' E anche se faccio un po'